Fabrizio Corona dal carcere si scaglia contro Barbara D'Urso e il suo programma live non è la D'Urso sottolineando di non aver mai autorizzato le immagini mandate in onda durante la puntata scorsa una settimana fa. Il filmato diffuso mostrava l'ex re dei paparazzi a una partita di calcetto di beneficenza a San Vittore un materiale esclusivo la cui divulgazione si teme possa pregiudicare il suo percorso giudiziario secondo quanto si legge in un posto pubblicato su Instagram a firma del suo avvocato il servizio lì dedicato avrebbe compromesso anche il suo stato psicofisico Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato tanto meno in esclusiva la diffusione delle immagini che lo ritraggono all'interno del carcere di San Vittore e che sono stati mandati in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D'Urso live non è la D'Urso di domenica 22 settembre 2019 e di conseguenza sono comparse su vari siti per promozione Fabrizio Corona dunque è soltanto partecipato ad un evento di beneficenza organizzato dal carcere su richiesta delle stesse autorità penitenziarie la divulgazione non autorizzata di tale immagine può pregiudicare il percorso giudiziario di Fabrizio oltre ad averne alterato lo stato psicofisico Corona infatti si trovava nel cortile del carcere accanto a magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e altri detenuti ha indossato magliette e pantaloncini neri per partecipare all'iniziativa benefica dell'associazione Grande Ale Onlus dal marzo scorso è tornato in carcere per aver violato le regole dell'affidamento terapeutico con le sue dichiarazioni contro Riccardo Fogli partecipante all'isola dei famosi aveva trasgredito le regole del provvedimento che gli consentiva di scontare la pena fuori dal carcere tornato in cella è sembrato abbattuto ma ha deciso a rispettare le regole in quest'ora ha dimostrato di non aver gradito quest'ultima apparizione televisiva e la relativa pubblicità se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto